Ho sentito l'esposizione e come se l'ho sentita? Ho sentito questo forte boato e addirittura ho i doppi vetri, c'era anche la possibilità che si rompevano anche questi doppi vetri, poi sono corso per strada, ho visto la casa che era distrutta e quindi ho redotto che c'era stata una fuoco di gas. Alla fine quella casa lì è crollata giù tutta, dietro c'è un capannone giù anche lui. Situazione che era molto difficile lavorare su perché c'era tanto odore di fumo e gas anche. Ho segnalato che si sentiva odore di gas, sono venuti i vigili del fuoco, hanno controllato eccetera eccetera e hanno chiamato i quelli del gas. Di notte si sentiva i lavori, non so, penso che siano stati quelli del gas e poi vabbè oggi erano lì a lavorare e la casa praticamente si è alzata e poi si è sentito il botto. Quindi stanotte? Stanotte hanno lavorato, sentivo i rumori dei macchinari che andavano. Presumo che stessero cercando di risolvere il problema. L'errore grosso è stato quello di non chiudere il gas, perché il gas andava chiuso, l'odore di gas continuava a sentirsi. Sentito l'odore ho chiamato i vigili ieri sera, erano già lì. Dove sentiva l'odore lei? Dappertutto. Ma c'era una forte puzza di gas? Sì, però c'erano i vigili, è quando io lo sentivo. Ieri sera erano venuti i vigili per questa puzza di gas? Sì. E c'era anche la società del gas che lavorava? Ma non so, io c'erano i vigili, ho parlato con i vigili, poi sono entrati in casa. Che le hanno detto i vigili? Che hanno chiamato i pompieri e la società del gas. Ieri sera alle 7 qui c'erano già i vigili? Sì, sì, parcheggiati là, proprio là sul dosso. Stavano facendo dei controlli? Ma era chiusa, mi hanno fatto fare inversione e tornare indietro, quindi non ho chiesto. Però non hanno evacuato la zona, neanche hanno spento il gas? No, no, io stamattina sono passato di qua. Fino a stamattina avevate il gas a casa? Sì, ho fatto il caffè, sì. Sì, stamattina sì. L'hanno staccato solo adesso? Sì, adesso quando sono tornato stasera era senza gas a casa. Quindi è probabile che abbiano continuato a lavorare senza... Con il gas, sì, con il gas.